Va bene, buongiorno, questo oggi e domani ci diletteremo con un esercizio sempre sulla ricorsione, un pochino meno astratto, un pochino più concreto, forse anche un pochino più divertente rispetto agli altri esercizi più algoritmici puri. Io ho pensato che, visto che siamo in grado di risolvere problemi di ricerca ricorsiva, potremmo costruire un programma che sia in grado di risolvere, cioè trovare le soluzioni ottime nel giochino del razzo che probabilmente tutti conoscete, nel quale data una griglia di lettere casuali, più o meno casuali, adesso qui sono tutte R solamente perché l'ho composta così a mano, ma ogni volta avremo una griglia diversa di lettere casuali, devo trovare le parole di senso compiuto, il maggior numero di parole di senso compiuto di lunghezza massima possibile che siano componibili partendo da una casella e seguendo un percorso contiguo. Quindi ad esempio questa, poi questa, poi questa, poi mi sposto in diagonale, poi posso tornare indietro, posso incrociarmi ma non posso riusare due volte la stessa casella. Probabilmente ci avete già giocato e quindi questa spiegazione è superflua. Vorrei concentrarmi su come risolvere questo problema. Dobbiamo capire, trovare un algoritmo per capire se una determinata parola che ci inventiamo noi, Pippo, è compresa nella griglia di gioco e se è compresa nel dizionario delle parole. Dizionario, usiamo lo stesso che avete usato nelle esercizazioni precedenti in laboratorio, quindi con 700.000 parole italiane. Adesso noi non faremo un programma con cui un utente possa giocare, ma è il programma che gioca e risolve. Allora io ho predisposto, tanto per accelerare un pochino i tempi, un progettivo in cui mi sono fatto già la parte noiosa. La parte noiosa che è la creazione di tutti i bottoni, tutta questa griglia di 16 bottoni in fxml, la creazione del controllo di un modello che adesso guardiamo insieme nelle parti principali, in modo da poterci poi insieme a voi concentrare sulla parte più algoritmica. Questa parte qui la trovate già su GitHub, il progetto si chiama Razzolo ovviamente, e è il punto di partenza da cui inizieremo a lavorare oggi. Quindi io lavoro su una versione del progetto che è esattamente quella che c'è su GitHub, da qui andiamo avanti. Quindi spendiamo un paio di minuti a guardare cosa c'è già nel progetto, cose molto semplici, nel senso che io ho un package DB dove c'è la solita classe statica DB Connect che apre la connessione verso il database, che è il database dizionario del file mark.sql che avete già visto in laboratorio, e poi c'è una classe DAO molto banale che semplicemente mi restituisce sotto forma di lista tutte le parole del dizionario, quindi neppure l'oggetto parola, semplicemente una lista di stringhe. L'ho fatta semplice semplice, quindi qui c'è la parte di lettura da database, già fatta, tanto non c'era nulla di difficile. E poi invece ho una classe modello che, un package modello all'interno del quale ho cominciato a costruire qualche cosa relativo alle strutture dati. Allora, noi dobbiamo lavorare in una griglia bidimensionale e avremo poi bisogno di potersi spostare su questa griglia nelle varie direzioni in diagonale eccetera eccetera. Quindi per non dover impazzire in tutti i punti del programma con gli indici di riga e l'indice di colonna, mi sono creato una piccola classe posizione che semplicemente riassume la riga e la colonna di cui sto parlando. Ok? Qui non ti dice cosa c'è in quella posizione, semplicemente una classe coordinata, no? Mette insieme i due indici, in questa classe non c'è nulla, getter, setter, liquals ovviamente che vale sull'identità di riga e di colonna, due celle sono uguali se sono sulla stessa riga e sulla stessa colonna e basta essenzialmente. Quindi questo è un oggetto che però ci serve come chiave per poter definire i contenuti della griglia. E infatti la griglia io l'ho definita in una classe board che alto non è, essenzialmente che è un elenco di posizioni possibili, quindi tutte, grazie, tutte le caselle, 16 caselle corrisponderanno ciascuna a un oggetto pose che ne identifica la posizione e sono fisse queste posizioni e poi ho il contenuto delle singole caselle, che è una mappa che mette in reazione una certa posizione con la stringa o il carattere, che in questo caso sono tutte stringhe di un carattere solo, che è inserito in quella posizione. Non ho un array, perché le posizioni non sono da 0 a 15, ma essendo bidimensionali, l'indice essendo bidimensionale, essendo un oggetto posizione, non è semplicemente un intero, non me la cavo con un array list. O meglio, se usassi un array list poi dovrei fare sempre la ritmetica con gli indici riga più per 4, più colonna o cose di questo genere e io voglio evitare di andare a inficcarmi tutti i bacchi che possono uscire da queste cose. E quindi lo realizzo con questa mappa, la uso come se fosse praticamente un array, il cui indice è un indice bidimensionale e non è un indice intero, il cui indice è un oggetto. Quindi data una certa posizione, qual è la stringa contenuta? Poi visto che sono pigro, anziché definire semplicemente una string come valore di questa mappa, ho definito la string property, perché così l'aggancio all'interfaccia utente e le letterine che compagno sui tasti si aggiornano in automatico, con il binding che abbiamo già visto un paio di volte, ma questo se vogliamo un dettaglio semplicemente sul funzionamento dell'interfaccia. Anziché un semplice string in cui poi ogni volta che cambio la mappa devo ricordarmi di andare ad aggiornare il testo di ogni singolo bottone, faccio uno string property, faccio il binding una volta e poi ci pensa lui da solo, ma questo se vogliamo un dettaglio legato all'interfaccia utente. Ok, questa classe board su cui dovremmo ancora lavorare essenzialmente per ora gestisce queste due informazioni, quindi il costruttore cosa fa? Il costruttore, questo l'ho parametrizzata dicendo prenditi la size e noi sappiamo che la size sarà sempre 4, però non mi costava nulla usarlo come parametro generico, c'era una domanda, volessimo fare varianti di questo gioco. Costruisce tutte le possibili posizioni facendo variare la riga e la colonna da 0 fino alla size specificata. Quindi questo doppio loop mi costruisce 16 oggetti di tipo pose e me le mette in questa lista positions. Quindi dentro positions ho tutte le celle, tutte le caselle della mappa. Se un domani dovessimo fare una variante del razzo in cui magari c'è un buco qua in mezzo e quindi non tutte le posizioni ci sono, non è un problema. Perché basterà modificare la costruzione di quell'elenco positions e l'algoritmo dovrà lavorare con tutte e sole le posizioni che ci sono dentro. Quindi diventa facile volendo anche fare varianti del gioco, la cui forma del terreno di gioco sia non necessariamente quadrata o rettangolare. Se invece avessimo lavorato con gli indici numerici, avere delle forme strane ci avrebbe fatto impazzire come minimo, in casi particolari da gestire e da controllare. Quindi a volte bisogna cercare di fare uno sforzo di astrazione in più per poi riuscire anche a gestire più facilmente casi più complessi. Adesso non ci serviva, però già che abbiamo fatto lo facciamo in modo più generale. Quindi tutta la forma del campo di gioco è tutta in queste tre righe. È definita qui. Dovessimo cambiarla, cambiamo queste tre righe e tutto il resto funziona, più o meno. Dopodiché ho il contenuto. Quindi qui sono quali sono le caselle e poi dopo qual è il valore di queste caselle. Il valore è definito nella mappa che ho chiamato cells, che è un hash map, in cui in ciascuna posizione ci vado a mettere non una stringa vuota, ma una string property che conterrà la stringa. Mi sono complicato un pelino la vita usando una string property e quindi queste string property vanno create, vanno create però vengono create con nulla, con nessun valore iniziale. E poi dopo da queste string property potrò fare un get è un set per poter leggere e modificare il valore della stringa opportuna. E quindi devo inizializzare una string property diversa per ciascuna posizione. Dopodiché, altri paio di metodi, questi qua sono semplicemente metodi di accesso, una get positions che restituisce la lista delle posizioni, che sicuramente serviranno al resto del programma, visto che è l'unico che ha la conoscenza di quali sono le posizioni e board, questa lista deve essere esposta agli altri. E get cell value, cioè data una cella, data una posizione, dimmi che cosa c'è scritto lì dentro. In realtà anzi, che dirmi che cosa c'è scritto lì dentro, ti restituisco la property perché così posso eventualmente sia leggere che modificare, che fare un binding del contenuto che c'è lì dentro. Se uno vuole sapere la vera stringa, deve prendere questa cosa qua che ancora è una string property e fare appunto get per averla stringa. E poi è un metodo scemo che crea il contenuto di una tastiera a caso, totalmente a caso, estraendo dei numeri tra 0 e 25, convertendolo in stringa e quindi lo riempie con tutte le lettere possibili d'alfabeto, casualmente, in modo uniforme, in che è abbastanza brutto perché vengono fuori delle griglie in cui la Z o la K sono ugualmente probabili che la E, che cosa che non succede invece con il linguaggio normale, quindi saranno griglie abbastanza brutte, complicate. Però qui tutto è migliorabile, per ora c'è questo metodo reset che mi crea una tastiera nuova. E vedete cosa faccio? Per ciascuna posizione, genero la stringa e, data la posizione P, se es è la mappa, se es.getdp è la string property che corrisponde a quella posizione P, set, sto settando la string property al valore di questa stringa. Quindi farò sempre questo giochino qua tutte le volte che devo leggere o scrivere, modificare o interrogare il contenuto di una cella. Fatto questo, torniamo su a vedere insieme il modello, che cosa ho fatto, anche qui non ho fatto quasi nulla, nel senso che ho un costruttore, il modello ovviamente gestisce una board, qui la board è il campo di gioco, non ha le regole, non ha lo stato della partita, non ha, semplicemente sa che cosa c'è nelle varie caselle. È il modello che poi gestisce la partita vera e propria, no? Quindi il modello dovrà avere in sé la board, dovrà avere il riferimento al dizionario, perché deve sapere, il model deve mettere insieme la griglia di gioco e le parole possibili. È il model che sa tutto. La board da sola non sa quali sono le parole lecite del dizionario, il suo lavoro è un altro, quello di gestire le caselle che ci sono sopra. E quindi di fatto, e qua definisco nel model la dimensione fissa del campo di gioco, creo la board e leggo dal database il dizionario. Quindi nel costruttore del model, creo una board nuova, leggo il dizionario del database. E mi ricordo queste due variabili, board e dizionario. Vabbè, poi ho una stream property status text nel modello che uso per aggiornare questa riga status sotto, in cui posso dire parola trovata, non trovata, cose di questo genere, per comodità. L'ho definita come property, così non appena il modello aggiorna questo contenuto, questa property automaticamente l'interfaccia la visualizza. E poi semplicemente un metodo reset che chiama reset della board, e un po' di getter sparsi dei valori, delle property. Salgo ancora su di un livello, nel controller, ovviamente ho riferimento al model, e ho un'altra mappa, che ho chiamato letters, che mette in corrispondenza le posizioni con i bottoni veri e propri. Perché io per non complicare troppo il codice, queste 16 lettere le ho create come button. Sono 16 oggetti button diversi, a mano, messi dentro, uno a uno, messi la posizione, messo la grandezza, l'altezza, la larghezza giusta, eccetera. È stato molto divertente. È ovvio che l'avrei potuto anche creare dinamicamente in Java, creando il nuovo oggetto button, applicandogli a proprietà, eccetera. Sarebbe stato sicuramente più veloce, ma più complesso sicuramente come codice anche. Fa lo stesso, l'ho fatto così. Quindi nell'FXML ci sono 16 oggetti button. Però chi è che dice qual è l'oggetto button che sta in alto sinistra? Che deve corrispondere alla lettera che è stata messa nella cella di posizione 00? Questa corrispondenza ce la devo avere da qualche parte. E l'unico che può gestire questa corrispondenza, ovviamente, è il controller. Perché il controller è l'unico che sa quali sono gli elementi che sono sull'interfaccia utente. Gli oggetti button, gli oggetti dell'interfaccia, sono visibili solamente alla classe del controller. Tutto il resto del programma non li conosce. Quindi che cosa fa il controller? Andiamo giù dove c'è il set model, che è essenzialmente la metodo in cui normalmente inizializziamo le strutture dati del controller. Oltre ovviamente a memorizzarsi chi ha il modello con cui deve lavorare, io poi ho popolato questa mappa dicendo che nella posizione 00 c'è questo bottone che ho chiamato lettera 00. Nella posizione 01 c'è questo bottone che ho chiamato lettera 01 e così via. Quindi mi sono costruito dentro il controller un'altra mappa le cui posizioni anche lì sono cablate. Quindi non posso generalizzare più di tanto, perché i bottoni sono quelli, sono tutti oggetti diversi, con un nome diverso. Ovviamente se dovessi, il ragionamento che facevamo prima, cambiare la forma della scacchiera, dovrei cambiare sia l'fxml che creare dei nuovi button, e quindi qua proprio mettere esplicitamente dove sono. Questo qui lo devo fare a mano, mentre invece nella board era più dinamica la creazione, perché tanto era solamente un oggetto invisibile, un oggetto pose, una posizione astratta, mentre qui corrisponde a un bottone ben preciso. Quindi io qua mi creo questa mapping tra le varie posizioni e gli oggetti button. Questi let si sono dei button. E poi, in una riga, dico, guarda, per tutte le posizioni della board, model.getboard.getpositions, quindi chiedo al modello, dammi la board, dentro il modello ho messo un getboard, chiedo alla board, dammi le positions, quindi tutta la lista delle posizioni che hai creato, e per ciascuna posizione vado a prendere il bottone che è in quella posizione, come attraverso la mappa letters che mi sono appena fatto, e il testo di quel bottone lo collego alla proprietà stringa di quella corrispondente alla stessa identica posizione all'interno della board. Quindi ho fatto la fatica di creare tanti bottoni, ho fatto la fatica di creare, ho due mappe praticamente, no? Dentro la board ho una mappa che mi dice data la posizione qual è la lettera, la stringa, la string property. Dentro il controller ho un'altra mappa che mi dice data la posizione qual è il button, l'oggetto button che la visualizza. E con questa riga, riga in mezzo di codice, li metto in collegamento. Per data una posizione che c'è sulla board prendo il bottone che sta nella pose corrispondente identica e faccio binding della proprietà testo del bottone con la proprietà stringa della board, della cella corrispondente nella board. È un po' di ginnastica ma poi funziona. Poi è un binding scemo della status property dal modello all'interfaccia. Questo è tutto quanto ho fatto. Quindi questo programma finora cosa fa? Vediamo il main perché poi il bello viene da adesso in avanti. se io attivo questo programma parte così mi scrive sotto 700.000 parole lette perché è lo status text che mette il modello dove è andato? Qua, dopo aver letto dal dizionario quindi ora confermo che il collegamento col database funziona e ho letto tutto. questi bottoni che prima erano tutte R nell'fxml sono diventati adesso tutte stringhe vuote perché ho fatto una new board e quella contiene le string property vuote. Quindi per popolare questa griglia dovrei chiamare potrei fare automaticamente ma qui ci ho messo un bottone perché adesso siamo ancora in fase sviluppo vogliamo farlo noi quando vogliamo un bottone reset che chiama il metodo reset che crea una nuova board o meglio non crea una nuova board la board è sempre la stessa crea delle nuove property assegna dei valori nuovi a tutte le property di tutte le celle della board quindi ogni volta che premo R set c'è la mia funzione random e vedete che sono un po' bruttine perché hanno tante lettere che nell'alfabeto vengono prese come fosse di uguale tipo di frequenza probabilità e noi sappiamo che invece nel linguaggio non è così quindi è difficile fare delle parole sensate con queste frequenze di lettere al limite lo sistemeremo poi dai adesso noi vogliamo sapere quante parole prendiamone una un po' decente che abbiamo un po' di vocali prima o poi arriveranno insomma vabbè fate finta che questo è decente c'è l'apo come parola non so se sia nel dizionario il c'è ola c'è tutte parole di due e tre letter le trovo tutte io e sono quelle più lunghe allora noi vogliamo fare due cose la prima cosa è testare un algoritmo che ci dica inserendo una parola a mano se questa parola c'è o non c'è sulla griglia che è il primo passo siamo capaci data una stringa a capire se c'è nella board se è una risposta corretta se si è capace a fare questo poi diventa più facile perché abbiamo 700.000 parole le proviamo tutte una per una questo è un approccio possibile ho 700.000 parole le provo tutte l'importante è avere un algoritmo che data una parola mi dica se c'è o se non c'è poi se quell'algoritmo risponde in che ne so riesce a calcolare decidere se c'è o non c'è in 10.000 secondi non lo so cosa verrà vediamo cosa riusciamo a fare se devo provare 700.000 volte quanto tempo ci vuole cominciamo a ragionare sui tempi 10.000 secondi sono 0,01 secondi 0,01 secondi per 700.000 sono 7.000 secondi è un po' tanto ecco sarebbero due ore per provarle tutte ma magari ce la facciamo in meno non lo so e questo è un un modo ci sarebbe l'altro modo di procedere che però è un pochino più complicato che è quello di andare avanti invece di provare a costruire tutti i percorsi possibili sulla griglia allora c'è una D esiste D nel dizionario come parola? sì no se sì è una soluzione ok se no fa lo stesso vado avanti esistono nel dizionario delle parole che iniziano con la D? sì ok allora vado avanti DH esiste DH come parola? no esistono parole che iniziano con DH e poi continuano? no allora di cui mi fermo torno indietro DI esiste D come parola? sì la metto da parte come soluzione esistono parole che iniziano con DI e poi vanno avanti? sì allora continuo come? da I faccio DIH esistono parole esiste una parola DIH? no esistono parole che iniziano con DIH no mi fermo DIW DIL DII DIJ DIX DIW no? quindi esploro in tutti i modi possibili e immaginabili questa griglia però ogni volta prima di fare un passo mi chiedo ma sto andando in una zona in cui nel dizionario non c'è nulla e quindi sto andando oppure mi fermo subito perché tanto so che parole che iniziano con DIH DIHW non c'è nessuna quindi è inutile che mi chieda se dopo DIHW viene la A o la P o la L ok? quindi questo sarebbe un secondo approccio diverso dal primo primo provo tutte le parole alla cieca e per ogni parola mi chiedo c'è o non c'è la mappa quest'altro approccio invece esploro la mappa e per ogni mossa della mappa mi chiedo la parola esiste o esiste potenzialmente in questo secondo caso ovviamente dovrò interrogare molte più volte il dizionario mentre nell'altro caso dipende non so a dirvi adesso a priori quale dei due approcci sia più efficiente parto da quello più semplice da implementare poi vediamo se non ci basta proveremo anche l'altro per dire che lo stesso problema può essere affrontato impostato in modi anche molto diversi allora rimaniamo al facile al primo approccio per implementare il primo approccio passiamo dal passo zero cioè data una parola c'è o non c'è quindi questo bottone prova io scrivo palo e lui mi deve dire c'è perché c'è p-a-l-o se scrivessi pali anche non questa di sotto ma questa di sopra eccetera allora qui è tutto da fare nel senso qui dietro il metodo del controller handle prova non c'è nulla allora cosa possiamo fare beh cominciamo a pensare all'algoritmo all'interno del model il model ha accesso alla board e può può diciamo ricorsivamente andare a cercare la soluzione possibili come facciamo a ricercare una soluzione allora ragioniamoci ancora un attimo sul disegno palo innanzitutto devo cercare se c'è una qual è la casella di partenza quindi devo cercare sulla mappa dove sono le p se ci sono le p questo è facile basta che io scandisca tutte e 16 le posizioni e vedo se c'è una p in questo caso ce n'è una sola se ce ne fossero due dovrei provare prima dall'una e poi dall'altra ovviamente quindi un primo passo che è iterativo cerco tutte le p tutte le prime lettere e per ciascuna di queste mi chiedo il palo che sto cercando può iniziare da questa casella può iniziare da quell'altra casella poi una volta trovata la p mi chiedo la seconda lettera della parola da cercare è una a adiacente a questa p esiste per caso un a? sì è da sopra sono fortunato adesso adesso passo la terza lettera l adiacente alla a di prima esiste per caso una l e così via che non abbia ancora usato ma in questo caso non ci sono lettere doppie ma devo trovare una casella adiacente a quella precedente che contenga la lettera giusta per cadere avanti con la parola e che non sia ancora stata utilizzata quindi questo è il seme del passo ricorsivo al generico passo ricorsivo io che cos'ho? ho un pezzo di parola già trovata la prima lettera l'ho trovata a parte poi l'ho trovata magari la seconda e la terza e devo capire se c'è anche la quarta lettera ho già delle caselle che sono state utilizzate ovviamente per trovare le prime lettere della parola o so qual è la casella d'arrivo su cui sono arrivato con la parte di parola già riconosciuta e devo semplicemente guardare tra le massimo otto caselle adiacenti a quella se ce n'è almeno una che abbia esattamente quella lettera e che non sia ancora stata usata facile sono otto le guardo tutte se ne trovo una allora ricorsivamente dirò bene allora quella l'ho trovata andiamo avanti con la ricorsione vediamo se c'è anche quella dopo ma quello è un problema della procedura ricorsiva sottostante quindi proviamo a formalizzare l'impostazione ricorsiva quindi che cos'è una soluzione per noi che stiamo costruendo è innanzitutto partiamo dal problema il problema è data data una stringa da riconoscere è data una board contenuto di una board e poi noi abbiamo detto che dobbiamo già trovare separatamente al di fuori della ricorsione la posizione iniziale della lettera iniziale la posizione la posizione della lettera iniziale la devo trovare a parte perché il criterio con cui la cerco è diverso mentre all'interno della ricorsione per passare dalla terza alla quarta lettera dalla quarta alla quinta alla quinta alla quinta alla sesta devo sempre fare lo stesso lavoro guardo gli adiacenti per trovare la prima no e quindi conviene farlo a parte e quindi la soluzione parziale che cos'è? è una parte iniziale della parola già riconosciuta e l'elenco delle posizioni in cui si trovavano le lettere già riconosciute mi serve sapere quali caselle ho già usato perché quelle stesse caselle non possono più essere usate dopo oltre che ovviamente sapere che quando arrivo alla fine devo dirti da quali caselle sono passato quindi è un'informazione che costruisco via via questa è la soluzione che sto costruendo l'elenco delle caselle mentre la soluzione totale finale completa cos'è? è semplicemente la parola completamente riconosciuta e quindi con l'elenco di tutte le posizioni che servono per comporre la parola quindi io posso avere nella mia ricorsione una nozione di livello della ricorsione che altro non è che è il numero di caratteri già riconosciuti nella parola che corrisponde anche alla lunghezza della sequenza di posizioni ogni volta che scendo di livello una ricorsione vuol dire che ho riconosciuto un carattere in più e provo a passare a quello successivo allora se il livello è questo la ricorsione termina quando quando il livello è uguale alla lunghezza della parola cosa ho appena scritto il livello è quante lettere ho già riconosciuto e se quante lettere ho già riconosciuto sono tutte le lettere della parola allora sono la fine e cosa mi manca mi manca ancora la generazione delle soluzioni ad ogni livello di ricorsione la generazione di tutte le soluzioni possibili che mi fanno andare avanti di un passo sono trovare tutte le caselle tutte le posizioni usiamo questo termine che abbiamo già dato prima che siano tre condizioni adiacenti all'ultima casella usata l'ultima posizione usata contenenti la lettera corretta e non ancora utilizzate a un determinato livello quando ho una soluzione parziale per costruire tutte le possibili soluzioni ancora parziali ma con un grado in più con un livello in più devo esplorare queste possibilità che sono massimo 8 l'ultima cosa è l'avvio della ricorsione come parte la ricorsione beh devo il livello 1 parto dal livello 1 con la prima lettera partendo da una posizione che contiene la prima lettera della parola a differenza degli esercizi che abbiamo fatto le volte scorse in cui partivamo con una stringa vuota con una lista vuota qui conviene partire già con una prima posizione perché sennò la scoperta delle posizioni non si può fare con lo stesso meccanismo di esplorazione della generazione delle soluzioni perché sarebbe diverso allora facciamolo fuori dal ciclo cosa vorrà dire che noi faremo un ciclo di 16 tentativi inizia per la P sì allora lancia la procedura ricorsiva se no passa oltre ok allora se questo schema ci convince lo dobbiamo tradurre in codice come? beh quali sono le strutture dati che usiamo? useremo sicuramente la stringa useremo sicuramente la stringa riconoscere che qua si chiamava come si chiamava nel codice prendiamola da qua questa casella l'ho chiamata txt parola potremmo chiamarla parola poi mi serve il livello ovviamente ma questo c'è sempre della ricorsione e poi mi serve una lista di pose corrispondente alla sequenza di caselle che stiamo costruendo no? mi basta questo come struttura dati la ricorsione man mano che va giù aggiunge qualcosa alla lista questa questa la chiamiamo percorso magari aggiunge ogni volta una pose nuova al percorso ok? la terminazione ecco torno su solo prima sulla condizione terminazione quando trovo la parola cosa devo fare? uscire dicendo che l'ho trovata interrompendo subito la ricerca cioè nel gioco del razzo se c'è la parola palo e questa palo o pali cos'era si può trovare in due modi diversi non me ne frega niente l'importante è averla trovata in un modo e quindi c'è non c'è in realtà non è vero nel gioco vero no perché si sapete che c'è la lettera doppia la parola doppia eccetera se la trovo la stessa parola passando dal cell che diano un punteggio maggiore è meglio allora diventa quello un problema di ottimizzazione non solo di ricerca noi lo facciamo facile solo la ricerca e quindi in questo caso arriva trovata se viene trovata soluzione si interrompe subito la ricerca attraverso la via di fuga che abbiamo imparato la settimana scorsa a costruire return true su 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 fino in fondo ok ok allora un pezzo per volta partiamo dal centro della ricorsione e poi costruiamo l'inizio e costruiamo la fine ok come facevamo sempre partire dal centro significa essenzialmente partire da qua capire come è fatta la procedura ricorsiva e per questo ci aiuta a capire strutture dati e cosa deve fare essenzialmente generare soluzioni lo possiamo fare nel model lo possiamo fare in una classe a parte come preferite magari facciamo in una classe a parte più pulito magari anche più riutilizzabile quindi facciamo una classe ricerca che offrirà un'interfaccia pubblica trova parola public public boolean trova parola data una stringa parola e per far questo userà la nostra procedura ricorsiva privata cerca la chiamo cerca come chiamate cerca la settimana scorsa che questa è la procedura ricorsiva nostra interna che come abbiamo scritto qua deve conoscere la parola deve sapere quale parola stiamo cercando di conoscere a che livello siamo già arrivati e quali sono le caselle già usate e quelle ovviamente a cui aggiungere nuove posizioni quindi servirà sicuramente conoscere la parola il livello la lista di posizioni percorso e poi probabilmente ci servirà ancora qualcosa per sapere data una casella quali sono quelle adiacenti quindi mi serve la board essenzialmente perché è solo la board che sa quali sono le caselle esistenti la singola casella non sa chi è vicino quindi mi servirà la board per scoprire gli adiacenti questa board ovviamente mi deve essere passata anche da qua da sopra giustamente trovo una parola questa dove in questa board ok allora cominciando a scrivere la funzione cerca facciamo finta che il resto del programma sia già scritto e noi siamo già a un certo punto della ricorsione dobbiamo solamente fare il nostro pezzettino il nostro pezzettino cos'è? verificare di non essere in un caso terminale se per caso il livello è uguale alla lunghezza della stringa allora sono nel caso terminale giusto? non ho tutti i caratteri sono già stati posizionati dai livelli sopra il mio non ho più nulla da fare anche se una parola fosse lunga 1 la prima chiamata ricorsiva è già sulla lettera mi dice la parola era lunga 1 mi hai dato già un livello 1 perché a me hai già detto che un primo caratteri l'hai trovato non ho nulla da fare quindi non è che devo andare a cercare oltre quindi questo è il caso terminale facile da gestire direi poi c'è il caso invece intermedio in cui devo invece cercare dei caratteri nuovi allora ma l'ho già scritto cosa devo fare? trovare tutte le posizioni adiacenti all'ultima posizione usata quindi qual è l'ultima posizione usata? sarà l'ultimo elemento di percorso percorso quindi l'ultima posizione è nient'altro che percorso.get di percorso.size-1 sarebbero modi più furbi di farlo ma lo facciamo letteralmente proprio trascriviamo dall'italiano al codice quali sono le celle adiacenti a quest'ultima? non lo so però so che ci sarà sicuramente un elenco di posizioni adiacenti che posso ottenere chiedendolo alla board da 1.000 adiacenti alla posizione alla posizione ultima no? a chi lo chiedo? alla board senti io ho questa posizione mi dici quali sono quelli intorno non ce l'ho ancora sto metodo lo scriverò tra un attimo quindi ho l'elenco delle posizioni adiacenti di queste posizioni devo verificare che contengono la lettera corretta e non siano ancora utilizzate allora devo verificare che per ciascuna di queste quindi itero sulle posizioni nuove per ciascuna di queste posizioni nuove in cui cerco di andare con la ricursione verifico se soddisfa le altre due condizioni adiuntive non solo deve essere adiacente ma deve contenere la lettera corretta e contenere la lettera corretta significa che la lettera contenuta dentro la board è uguale al carattere di posizione livello all'interno della stringa parole un po' lungo da scrivere perché noi abbiamo board punto get value alla posizione nuova punto get e la stringa ok get sell value property mi da la string property che sta in quella cella punto get mi da la string questo questo lo devo confrontare con cosa con parola punto charat livello si perché ad esempio se livello uguale 1 vuol dire che io ho già messo il carattere di posizione 0 sto cercando il carattere di posizione 1 che è il secondo c'è sempre attenzione con gli indici livello 1 vuol dire secondo carattere il primo l'abbiamo messo a posto livello 0 non ce l'abbiamo in questa ricorsione adesso io non posso confrontare questa che è una string con questo che è un char ma devo confrontare il primo e unico carattere di questa stringa quindi dammi la stringa che c'è nella posizione nuova prendiamo il primo e l'ultimo carattere di questa stringa e controlliamo se è uguale al carattere di posizione livello cioè quello che sto cercando di posizionare della mia parola da indovinare questa è la prima condizione la seconda condizione è che la posizione nuova non sia ancora stata usata e quindi il percorso non contenga la posizione nuova chi qui ha pensato di fare un ciclo si va da flagellare in corridoio poiché percorso contiene le posizioni via via che ho giunto in qualche modo io devo fare una sottrazione insiemistica tra gli adiacenti meno il percorso cioè le celle già usate potrei anche farla proprio come c'è un metodo che si chiama retain all l'avrei anche potuto fare quando trovo adiacenti poi faccio adiacenti punto retain all di percorso e quindi sottrae tutti quelli che non sono in percorso però ormai l'ho scritto così è più fedele rispetto allo pseudocodice che abbiamo fatto prima quindi qui dentro adesso avrò solo che cosa le celle adiacenti che hanno il carattere giusto e che non sono ancora state usate ok sono i miei candidati a fare ricorsione quindi finalmente faccio ricorsione faccio ricorsione cosa vuol dire aggiungo la casella nuova provo faccio backtrack per mettere la cosa a posto percorso punto add di nuova cerca allora parola è sempre lei livello lo incremento di 1 percorso board e poi rimetto le cose a posto punto remove percorso punto size meno 1 occhio che questo percorso punto size meno 1 è diverso da questo percorso punto size meno 1 perché nel frattempo ne ho aggiunto una quindi se questo fosse la quinta io qui sto togliendo la sesta che avevo appena aggiunto per prova prima di fare la ricorsione poi visto che qua sono in una ricerca in un algoritmo di ricerca pure in cui basta trovare una soluzione devo fare la via d'uscita rapida quindi se questa cerca ritorna true interrompo tutto e torno su qualche rima quindi se cerca return true se no continua a cercare l'uscita rapida in caso di soluzione se invece dovessimo trovare tutte le soluzioni impossibili questo ricordo non c'è se alla fine di tutto non riesco a uscire da qua uscirò di qua con le pive nel sacco dicendo le ho provate tutte ma non non c'era non sono mai arrivato alla soluzione che è qui se non passo mai di qui e passare di qui mi fa tornare su uscire dalle ricorsioni e vorrà dire che finisco tutti i giri ed esco per uscita naturale rispondendo false poi per carità se sono a settimo livello e dico false pazienza il sesto livello proverà altri tentativi se anche il sesto restituisce false il quinto livello proverà altre strade è chiaro che se il livello 1 restituisce false non c'è più niente da fare dobbiamo fare due cose ancora avviare questa ricorsione quindi farla partire dal livello 0 e scrivere sta maledetta funzione get adiacenti allora facciamo una cosa noiosa prima e poi una difficile cioè una invece più interessante dopo quindi facciamo prima get adiacenti dai non ci piace ma ci tocca quindi qui non mi dice fai la eccolo qua crea un metodo in board allora dove me l'ha messo? qua quindi chiedo alla board dammi una lista di posizioni che siano quelle adiacenti alla posizione che ti ho dato quindi questo metodo dovrà crearsi una lista di posizioni chiamiamola result uguale new array list di pos e la deve popolare come? provandole tutte quindi ci sono otto posizioni intorno le provo tutte e di ciascuna di queste mi chiedo è ancora dentro la griglia? se si le aggiungo cioè for riga uguale meno 1 int int riga che va da meno 1 a più 1 quindi minore uguale 1 r più più for colonna che va da meno 1 colonna minore uguale 1 c più più cosa sto facendo? genero tutti gli spostamenti no? qui ci sono tutte le combinazioni meno 1 0 1 sulla colonna e meno 1 sulla riga che mi generano tutte le posizioni verticali diagonali poi c'è anche una che non mi serve che quando riga e colonna sono entrambi r e c sono entrambi uguali a 0 la escluderò perché ovviamente rimango nel nostro posto allora così mi genera tante possibili posizioni quindi se r è diverso da 0 e o scusate c è diverso da 0 cioè escludo solo il caso in cui siano entrambi 0 quindi qua ho praticamente tutte le nuove posizioni nell'intorno della cella qui escludo la cella stessa che avrebbe offset 0 0 allora a questo punto posso pensare che ci sia una posizione sì scusa no non è and se r è uguale a 0 and c è uguale a 0 non la voglio ok nego di tutto perché voglio l'if nel caso in cui lo voglio fare quindi non r è uguale a 0 and c è uguale a 0 quindi lo posso scrivere così if not parentesi r uguale a 0 and c uguale a 0 se applico il not alla parentesi il teorema di De Morgan l'uguale diventa diverso e l'and diventa or cioè basta che o la riga o la colonna siano diverse da 0 affinché mi interessi considerare quella posizione che ci può scrivere in due modi quindi una nuova posizione che ottengo come prendendo la posizione ultima punto get row e sommando gli offset di riga e la get col sommando gli offset di colonna io ho la posizione ultima gli sommo cr c alla colonna r alla riga e ottengo una posizione nuova da questa casella ho ottenuto questa poi questa poi questa occhio li devo includere nella soluzione solo se questa nuova posizione che ho generato semplicemente sommando riga e colonna appartiene ancora alla griglia allora se noi siamo sicuri che la griglia sia sempre quadrata potremmo dire che escludere se la posizione generata è minore di 0 o è maggiore di 3 la escludo ma in generale visto che sono pigro verifico che questa posizione sia effettivamente contenuta nella lista delle posizioni se questa qua che ho appena generato è una posizione lecita cioè contenuta nella board e questo test funziona qualunque sia la forma della board anche fatta al dragone cinese con tennis mi dice se nelle posizioni che compongono la board c'è quella allora fa parte degli adiacenti veri qui l'adiacente di nuovo è un'intersezione di due condizioni diverse è nella board e a offset più o meno uno sulla riga e sulla crone allora result punto add dp e alla fine di tutti questi cicli return result oh non è il modo più efficiente di farlo è questo per il momento non ci occupiamo ancora di efficienza se non altro ha questo contains dentro un array list che si deve scandire ogni volta ogni volta calcolo tutte le funzioni di hash per vedere se sono uguali mi irrita un tantino ma per ora risolviamolo poi lo rendiamo più efficiente viene sempre tempo conviene sempre prima avere un metodo che sei sicuro che sia corretto che sia giusto poi dopo se ti accorgi che quel metodo lì ha un problema è lui che rallenta il programma è lui e sta lì il problema di efficienza lo ottimizzi perché poi magari ti accorgi che l'efficienza e i problemi sono tutti in un'altra parte quindi è inutile complicare le cose semplici allora questo get adiacenti fa questo lavoro in più per darmi dove siamo nel metodo ricerca questi e adesso rimane da fare l'altro pezzo cioè far partire la ricorsione far partire la ricorsione in realtà non ho un punto di partenza unico ma ne ho 16 possibili punti di partenza perché sono tutte le possibili caselle iniziali quindi per ciascuna di queste caselle iniziali dovrò dire quella caselle iniziale cortiene la lettera corrispondente al primo carattere della parola a cercare se sì lancia la ricorsione cerca se no passa oltre quindi avrò un ciclo in tutte le posizioni possibili della board se quella posizione contiene la lettera quindi facciamo un test simile a quello che abbiamo fatto sotto porto board punto get sell value property di p punto get punto charat di zero perché ho troppe parentesi così uguale a parola punto charat di zero allora ho un inizio potenziale della parola faccio ricorsione faccio ricorsione devo chiamare cerca con parola che ce l'ho già livello sarà uno percorso ecco devo costruire una classe percorso da passare alla procedura ricorsiva quindi costruirò uguale una nuova array list dentro la quale ci metto la prima posizione non parte vuota questa ci metto p ho capito che p è una posizione di partenza l'ho già trovata la metto nel percorso che poi dentro diventerà ultima dentro la ricorsione la prima lettera che ci ho messo è quella che abbiamo chiamato ultima da cui partire per andare avanti e poi chiamo cerca parola livello è uno non è zero perché lo zero con il carattere di posizione zero l'abbiamo già sistemato ci serve il carattere di posizione due percorso questo qui board ah questa trova parola anziché boolean potrebbe già anche restituirmi percorso perché no cioè se lo trova mi dice l'ho trovata lì se non lo trova dopo che le provate tutte restituisce null e una lacrimuccia quindi ogni volta pensiamolo trova la lettera P iniziale nella certa posizione se l'ha trovata crea una nuova lista percorso che poi sarà quella con cui la ricorsione lavora aggiunge toglie emette prova se per caso dalla cerca esce un true che è uscito dalla uscita rapida allora il percorso corrente che ricordiamoci non abbiamo quando usciamo col true veloce non facciamo backtracking quindi non lo rimettiamo a zero rimane quello che aveva fatto vincere la ricorsione allora questa varia di percorso ritorna su ritorna al chiamante ed è la soluzione se no vabbè partendo da questa posizione P non ho trovato la parola ma magari nella scacchiera ci sono altre posizioni P da cui posso provare a partire allora in quel caso ovviamente partirò con una ricorsione nuova con una variabile di percorso completamente nuova e via ho 16 problemi diversi provo 16 volte la stessa cosa se no 16 no perché non saranno tutte uguali le lettere massimo 16 volte chissà se sta roba funziona mi ha scritto codice per un'ora abbondante è ora di testare non lo garantisco allora per vedere se funziona agganciamolo al modello questo qua semplicemente il modello avrà un metodo di questo genere anche qua a cui passo solamente la stringa da trovare da trovare e questo mi chiama allora innanzitutto creare ricerca l'istanza di questa classe e poi chiamo il metodo trova parola a cui gli passo questa parola e board che è un oggetto mio quindi io ce l'ho il controller non ce l'ha ricordiamoci della board ma il modello si fine adesso la parte rognosa ce l'ha ancora il controller che deve chiamare questo metodo accertandosi che la string parola sia ben formata vuol dire che deve avere almeno un carattere se no non ha senso tutto questo e deve essere tutto in maiuscolo questo è un lavoro di normalizzazione che possiamo far fare al controller i lavori antipatici sono tutti nel controller quindi endo il prova torna su nel controller estrarrà la parola che l'utente ha inserito si chiama la txt parola il campo di testo get text controlla innanzitutto la lunghezza della parola length scusate se fosse 0 non va bene poi mettiamo un messaggio d'errore ma per ora se invece è a posto la converte in tutto maiuscolo metto il tuo uppercase converti tutti i caratteri della stringa in maiuscolo e ritorna la stringa convertita in uppercase quindi non basta scrivere la parola appunto tu uppercase questo non basta perché questo prende la stringa calcola la versione tutta maiuscola e poi non la mette in nessuna parte non modifica la stringa stessa ricordiamoci che le stringhe sono immutabili quindi l'unico modo di mutare una stringa è di fare una nuova che poi la metto sempre dentro parola ma è una stringa nuova rispetto a quella di prima poi dovrei ancora controllare che ci siano solo caratteri dall'A alla Z cioè non numeri punteggiatura spazi e altre cose sì bisogna farlo adesso andiamo avanti perché siamo curiosi di sapere se funziona però ricordiamoci di farlo allora se è così possiamo sperare di chiedere al nostro model trova parola qui si arrabbia perché l'ist non sa cos'è sì model punto trova parola come si chiamava? trova parola ah beh scusate percorso percorso uguale non ho definito la variabile e quindi if facciamo una cosa brutta ma solo perché è tardi stampiamo sulla console che cosa avviene in realtà quello che dovremmo fare è in qualche modo evidenziare i bottoni che corrispondono a quel percorso se invece è null non faccio nulla allora proviamo a vedere cosa succede dove ci dà null pointer exception riavvio il program creo una tastiera a caso e provo con la stringa A me la dovrebbe trovare no? ce n'è una qua infatti mi dice che è nella riga 1 cioè seconda riga colonna 2 terza colonna dar dar a r 2 2 1 2 0 2 ah ha trovato questa io avevo pensato a quest'altra fa lo stesso sempre dar e qui ci sono 3 y che sono tutte 3 adiacenti alla p cosa possiamo fare? p y l y vediamo cosa mi fa 2 1 1 0 2 0 3 0 avrebbe anche potuto fare così p y l y ma ha trovato prima l'altro e invece se facciamo la z a questo punto deve per forza fare qua perché gli serve una z dopo che sotto non trova e infatti anziché fare 1 2 3 anziché scendere ha fatto 3 2 1 e poi ci ha aggiunto la z se aggiungo ancora una k in fondo non dovrebbe trovare nulla infatti mi scalpa null se aggiungo la k al posto della z me la trova eccetera se metto una f che non c'è dice nulla ok adesso noi dobbiamo trovare il modo di evidenziare magari qua per vederlo anche non solamente sulla console capire quanto tempo ci mette a fare sto calcolo e poi ripeterlo per ogni parola del dizionario ok allora vi salvo questo su github e domani continuiamo con questo esercizio con questo esercizio che che mi 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 mi